voi sapete che io sono babbo natale e vi sto aspettando per consigliarmi la vostra letterina le vostre rette di me sono importanti per me perché io vi porterò dei giochi magici felicità per la nostra famiglia questa è la frase più importante che sto sentendo da tutti quanti questo pizzico di felicità ti fa lavorare ti dà gioia fraternità e poi io devo dire che questa volta ho conosciuto ma così tanti nonni e nonne che mi portano il loro nipotino che mi riempie di gioia perché anche se i nonni e nonna hanno i dolori e lo fa e si vede loro sono contenti di venire al villaggio di babbo natale perché il villaggio di babbo natale unisce queste famiglie la letterina per babbo natale è una gioia perché esprimono questa letterina il desiderio di essere felici e poi i bambini e le bambine molte volte hanno quella voglia di stare contenti e buoni con i genitori perché sanno che arriva babbo natale e io tengo la posta dove metteranno tutte le letterine e io ho intenzione di unire tutte queste letterine e fare un bel libro il libro delle letterine di babbo natale io il 24 notte fermerò il mondo per portare i doni ai bambini e alle bambine ma anche i grandi portare i doni però per favore non mi fate lasciare il latte con i biscotti ma una bella sono veramente felice stasera babbo natale sono veramente felice stasera babbo natale natale è felice e auguri